Abbiamo deliberato l'adozione di un decreto legge, è un decreto legge che riordina un poco quella che è la disciplina anche dei provvedimenti che stiamo adottando in questa fase emergenziale. A livello sanzionatorio è previsto, abbiamo introdotto una sanzione, una multa, il pagamento che va da 400 euro a 3.000 euro, secondo le multe proprie che tutti quanti conosciamo quando ci sarà capitato qualche volta di violare le regole del codice della strada. Quindi d'ora in poi alla contravenzione attualmente prevista si sostituisce questa sanzione pecuniaria, questa multa, ripeto da 400 a 3.000 euro. Nel caso in cui la violazione sia stata compiuta attraverso l'utilizzo di un'autovettura, di un veicolo, allora la sanzione è aumentata fino a un terzo, quindi c'è soltanto un aumento di queste somme fino a un terzo se il trasgressore viene colto alla guida di un autoveicolo. Quindi non c'è il fermo per intenderci, non c'è il fermo amministrativo. Abbiamo anche regolamentato più puntualmente e in modo ancora più trasparente i rapporti tra questa attività del governo e il Parlamento. Abbiamo regolamentato anche in modo lineare i rapporti tra gli interventi del governo, quindi dell'autorità centrale dello Stato e le regioni. Lasciamo che i presidenti delle regioni o delle province autonome possano adottare l'ambito esclusivo delle proprie competenze, possono adottare anche provvedimenti, misure restrittive e se del caso anche più restrittive, misure più severe e ovviamente però rimane la funzione di coordinamento, di omogeneità che viene assicurata da tutto il territorio nazionale dai nostri interventi, agli interventi del governo. Faccio un'ultima precisazione perché da questa mattina purtroppo ancora una volta assisto all'indebita diffusione di una bozza che è una versione già superata, perché evidentemente è una versione precedente, però vorrei precisare che si è creato un po' di discussione e di dibattito sul fatto che l'emergenza durerebbe, sarebbe stata prorogata sino al 31 luglio 2020 con questo decreto legge. Nulla di vero, assolutamente no. Vorrei ricordare che quando abbiamo adottato il primo significativo provvedimento, abbiamo deliberato a fine gennaio, abbiamo deliberato il Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza nazionale. Lo abbiamo fatto un attimo dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato l'emergenza, un'epidemia di carattere mondiale, globale. Siamo subito prontamente intervenuti e abbiamo dichiarato un'emergenza nazionale per uno spazio di sei mesi o comunque sino al 31 luglio 2020. Questo non significa che le misure restrittive che adesso in questo momento sono in vigore saranno prorogate sino al 31 luglio 2020. Quello è lo spazio dell'emergenza, ma noi siamo pronti in qualsiasi momento e ci auguriamo prestissimo per allentare la morsa di queste misure restrittive, per se del caso anche superarle e anzi siamo confidenti e fiduciosi che ben prima di quella scadenza che avevamo ipoteticamente fissato all'inizio si possa davvero tornare alle nostre abitudini di vita, anzi direi più che a quelle ordinarie a un migliore stile di vita. Perché io sono convinto che questa prova durissima che tutti noi stiamo affrontando ci renderà migliori.